ciao allora oggi parliamo di fiale per i capelli trattamento urto e vi parlo di queste della keramine h finalmente ho trovato la linea di fiale soprattutto adatte a me questa dice di essere formula potenziata con aminoacidi trattamento intensivo per capelli deboli sottili fatti a spezzarsi ed è la linea per capelli grassi allora i miei capelli più che altro sono misti perché sono secchi a sole punte e tendono ad ingrassarsi sulle radici ho trovato queste fiale fantastiche intanto non scusate l'ho pagata confezione da 12 fiale l'ho pagata sui 10 euro l'ho usata come trattamento più anticaduta rinforzante nel periodo autunnale e lo usavo una fiala ad ogni lavaggio quindi una una lavaggio esatto dopo aver lavato i capelli dopo aver dato la maschera l'intamponavo un po applicavo il prodotto e massaggiavo bene 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 a lungo perché l'importante più che il prodotto in sé è proprio il massaggio sulla cute massaggiare bene a lungo il prodotto penetra bene e poi intanto facciamo questo bel massaggio alla cute poi andavo tranquillamente a mettere in piega i capelli allora intanto credo che siano le prime fiale in assoluto che non tendevano a ingrassarmi i capelli perché sono adatte per capelli grassi quindi tranquillamente continuavo con il mio solito ciclo di shampoo mentre normalmente quando faccio questi trattamenti urto devo invece di due shampoo settimana devo farne tre perché tendevano a sporcarsi più velocemente hanno rinforzato i capelli non che ne avessi davvero bisogno perché faccio le ne quindi sono abbastanza anche se sono fini un po sono espessiti ma comunque sia soprattutto nel periodo autunnale che cadevano un po di più questo non è un trattamento anticaduta ma rinforzando il capello andando a proteggerlo soprattutto per capelli deboli facile a spezzarsi andava comunque a proteggerlo di più e quindi ne cadevano meno anche se il ciclo naturale e quei cambi di stagione ne cadono ne cadevano meno ne trovavo meno sulla spazzola cosa wow e poi con questo massaggio comunque sia che facevo prendetevi 5 minuti tranquilli sul cuoio capelluto andavo anche a proprio rinforzare fin dalla cute quindi mi piace mi è piaciuto davvero tanto so che questo marchio fa una linea e anti cadute ma io credo che avendo trovato questi che davvero mi sono piaciute tanto e non mi hanno fatto effetti negativi ma solo positivi direi che io le ho trovate stavo scherzando perché ho letto adesso che sono 10 non 12 vabbè comunque sia 10 10 fiale monodose 10 euro quindi va benissimo mi trovo bene con questo marchio piuttosto che ci sono anche quelle fiale trattamenti da farmacia oppure da profumeria ma credo che l'importante sia più caldo il massaggio oltre che il prodotto in sé quindi inutile avere un prodotto super potenziato quando vai a applicarlo e basta va massaggiato massaggiato e massaggiato ma ve l'ho già detto che l'ha massaggiato quindi queste io sicuramente periodo primavera prossimo periodo è la primavera le ricompro mi sono trovata benissimo ve le straconsiglio per chi come me ha i capelli misti si può dire misti perché secchi sulle punte e a tendenza che si sporca velocemente sulla cute si può dire capello misto si esiste o la pelle mista anche il capello misto questi ve le straconsiglio fatemi sapere se le avete provate come se trovate o se avete provato qualche altro prodotto di questa linea o di altre linee per il trattamento dei capelli il trattamento urto e come sempre spero di essere stata utile fatemi sapere se avete provato sì se ti è piaciuto il video mettete un like e iscriviti al canale così non perdete la prossima recensione beauty e mi raccomando cliccate sulla campanella così verrai visata ogni volta che calco un nuovo video basta la finisco qui e alla prossima ciao ciao